Allora siamo con il mister una partita comunque va da ostia la Gemina li ha messo in difficoltà in molte volte però il risultato finale è il 3 a 0 Beh Gemina è una squadra che noi conoscevamo e ha sicuramente delle qualità importanti soprattutto c'è giocatrice esperte è una squadra di personalità di cattiveria agonistica nel senso che lotta in campo quindi era una partita da temere poi secondo me noi abbiamo meritato la vittoria perché anche i punti a livello di occasioni abbiamo meritato noi però sicuramente quando si arriva tra le prime otto delle marche ogni partita è difficile quindi tutte le squadre sono forti è bene per noi che siamo andati avanti un'ora al Gemina